Questo è il gol annullato a Lukaku, un presunto fallo su Dall'Orco o un presunto fallo su Silvestri, sul portiere, perché le immagini così non chiariscono. Giacomelli è posizionato benissimo all'interno della rigore, insomma c'è il portiere che cade, Dall'Orco che fa un movimento con la schiena in avanti. Attenzione all'immagine nuova, guardate sul sinistra del vostro teleschermo, guardate Dall'Orco cosa fa in questo momento, ha la maglia di Lukaku ben tenuta. Che trattiere lo sponsor tecnico, io consiglio sempre ai giocatori di giocare con un sottopancia diverso. Buoni ragazzi, mi fai sentire Graziano, prego, vai. Io consiglio sempre ai giocatori di giocare con un sottopancia diverso, con una canottiera diversa dalla maglia originale, perché una volta alzata... Ah, si vede la differenza. Certo, si vede la differenza, mi sembra una cosa abbastanza normale. Adesso guardiamo quello che succede, Dall'Orco lo trattiene, lui appoggia questa mano sulla spalla, Silvio Gabrile esce e in questo momento perde il pallone, va sul suo compagno e il pallone rimane lì. Allora noi ci siamo chiesti, ma potrebbe esserci anche un fallo di mano di Lukaku, perché noi prendiamo in esame tutto. Guardate, il pallone Lukaku non lo tocca mai col bacio sinistro, quindi Lukaku a mio parere non commette nessuna inflazione. Allora, quindi il verdetto di Graziano Cesari è che questo è un gol buono. Sì, rivisto 40 volte, questo è il problema. La mano di Lukaku però sopra il difensore dell'Ecce... È appoggiata, scusate, non è fatto. Il problema è che da quattro mesi diciamo che questo è un colosso di due metri e quindi... Ma non deve essere una colpa, eh? Infatti, 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 sto dicendo proprio questo, questo è un gol regolarissimo. È regolarissimo, è regolarissimo. È un gol... Il problema è che gli arbitri c'hanno paura, quindi fischiano loro, non vogliono rotture. Esatto, in aria, a cade il portiere, in aria quando c'è il portiere con la palla in aria. C'è una sorta di benevolenza per i difensori, Graziano? C'è sempre stato in passato, una volta, vi ricordate, era una regola non scritta, oltre a quella del buon senso, si favorisce sempre comunque il difensore in una situazione di grande difficoltà con l'attaccante. Adesso, però, queste immagini sono a disposizione del VAR. Come le abbiamo viste noi... C'è la mano di Lucano.